In queste ultime ore abbiamo visto un escalation in Siria con l'intervento statunitense e delle tensioni nei confronti del rapporto tra Stati Uniti e Russia. Come potrà evolvere questa situazione? La situazione in Siria è oggettivamente preoccupante, una guerra civile, non solo civile, che va avanti ormai dal 2011, la situazione è confusa, caotica, lo era già prima di quest'ultima evoluzione. L'evoluzione è importante dal punto di vista della politica internazionale perché significa un mutamento radicale di quella che era l'attitudine dimostrata sia in campagna elettorale che dopo l'elezione da parte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sembrava un'attitudine e lo è stata, estremamente propensa al dialogo con Mosca. Questa iniziativa subitanea che però è stata preceduta da una serie di azioni negli ultimi giorni, per esempio l'esclusione dal Consiglio Nazionale di Sicurezza di Steve Bannon, che era il principale consigliere in materia di sicurezza del Presidente Trump. Quest'iniziativa, dicevo, è destinata inevitabilmente, l'abbiamo già visto oggi, a provocare una reazione da parte di Mosca, sostenitore a spada tratta di quella che è la posizione di Assad, il leader siriano e soprattutto è una situazione preoccupante perché se andassimo avanti nei prossimi giorni con interventi sul campo correremo il rischio, non voglio nemmeno prospettare l'ipotesi di un intervento di terra, ma anche con interventi aerei, in particolare se si dovesse ricorrere ad aerei con pilota e non più soltanto a missili cruise come è avvenuto la notte scorsa. Le forze americane, quelle russe presenti in Siria, già presenti in Siria, oltre al corpo di spedizione russo, sia aereo che di terra ci sono anche militari americani, potrebbero entrare a contatto, è un contatto in un'area di conflitto, di guerra, di conflitto armonico.